La scala dei Turchi off limits da più di quattro mesi ad imporre il divieto d'accesso in ordinanza dirammata dal sindaco del comune di Realmonte Lillo Zicari lo scorso 16 dicembre dopo lo smottamento del terreno e la conseguente caduta di alcune porzioni di marna. La stagione balneare è ormai quasi iniziata e i turisti non riescono a rinunciare a una passeggiata sulla famosa marna bianca ed imbarba all'ordinanza emessa dal sindaco. A documentare l'accaduto Maria Amico che da tempo sollecita il disgaggio della parete rocciosa, un sistema di drenaggio delle acque, una rete di contenimento della parete superiore e un ritorno alla fruizione dei luoghi seppur in modo controllato. Adesso a stoppare l'accesso un vero e proprio blocco interforse. Sono state multate ben 21 persone dei carabinieri trovate ad oltrepassare la zona interdetta. Sono scattate delle multe per un ammontare di 2.000 euro. Anche il personale della Capitaneria di Porto ha elevato diverse sanzioni da 200 euro a quanti non hanno rispettato l'ordinanza. E nei prossimi giorni i controlli aumenteranno. L'attenzione è massima perché a destare preoccupazione è una parte sommitale in tufo che potrebbe estaccarsi in porzioni decisamente più grandi della marna. Così al momento ed ormai da troppo tempo la scala dei turchi resta inaccessibile su tutti i fronti. Ordinanze comunali della Capitaneria ne vietano l'accesso su tre fronti, est, ovest e anche dal mare.